L'1, Universal FIRLF, Gabriele Quarnetti, il 2, San Robert, Lucio Becchetti, il 3, Talete Deymar, Tommaso Gambini, il 4, Zidane Petit, Roberto Vecchione, il 5, Zambia, Antonio Di Nardo, il 6, Ribo e Kappa, Enrico Bellè, il 7, Roger Waters. A completare lo schieramento, Roger Waters che ha lasciato la posizione e già cerca di ripiegare in seconda linea dall'esterno, Zambia che parte più forte di Universal FIRLF che però cerca di far valere il numero all'interno, ma Zambia riesce a sopravanzarlo. Terza posizione per San Robert davanti a Talete Deymar, poi Zidane Petit, ancora Ribo e Kappa e in coda Roger Waters. I primi 4 con qualche lunghezza di vantaggio nei confronti degli altri 3 e dunque c'è lunga fila indiana. Comandata da Zambia 28 e 2, i primi 400 metri si riaccostano Zidane Petit, Ribo e Kappa e Roger Waters, con Zidane Petit che è il primo a prendere la via del largo sul rallentamento parziale di Zen B. Risale Zidane Petit trascinandosi Ribo e Kappa, Zidane Petit che giunge al lato di San Robert che segue sempre in terza posizione dietro a Zambia e Universal FIRLF. Paletto di metà gara in 58 e 7 per Zen B e Antonio Di Nardo, davanti a Universal FIRLF che lo segue da vicino, insiste Zidane Petit, sopravanza San Robert trascinandosi sempre Ribo e Kappa. Zambia che continua a imporre buon ritmo, Zidane Petit che insiste però a largo e giunge al lato di Universal FIRLF. Zambia in vantaggio, Zidane Petit che affianca Universal FIRLF, paletto dei 1.002 in 1.27-1. Con Zambia in vantaggio su Universal FIRLF, poi Zidane Petit che si getta di galoppo. Retta d'arrivo, Zambia in vantaggio, Universal FIRLF che prova a spostare della sua scia, quindi Ribo e Kappa che attacca e supera San Robert. Zambia in vantaggio, Universal FIRLF che ci prova, prova a inizio della lotta anche Ribo e Kappa. Nel finale Zambia attaccato da Universal FIRLF per linea interna e Talete Deymar. Universal FIRLF che attacca Zambia che si difende, i due testa a testa sul palo. Zambia che sfugge Universal FIRLF con Talete Deymar terzo a contatto all'interno davanti a Ribo e Kappa. 5-1-3. L'arrivo ufficioso della settica pannella è 1-58-1 sul mio cronometro. Significa media di 1-13-8 per il figlio di Tossout allenato da Gennaro Casillo, i colori della scuderia Cumana Group. La guida, quella di Antonio Di Nardo al triplo in giornata dopo aver vinto le due corse con i Puledri. Quindi tre vittorie per Antonio Di Nardo, tre per Roberto Vecchione. Vedete, una testa scarsa di vantaggio per Zambia su Universal FIRLF e Talete Deymar. È tutto, linea allo studio. Grazie a tutti.